Si chiama La Ricetta, appena aperto in Vietadino, in zona Lima, Porta Venezia, a Milano. È una sorta di fratello minore di un negozio, una alimentare e drogheria che si chiama La Ricetta, sempre in zona. Tutti i giorni, fino alle 20.30 circa. Viennardi e sabato, fino alle 22.00. Viennardi e sabato, fino alle 22.00. Viennardi e sabato, fino alle 22.00.